Per decenni il lavoro è stato il tema centrale della politica e del pensiero politico. Oggi il tema sembra essere stato completamente abbandonato. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gianni Leggeri, che auspica la riapertura di un dibattito politico per cercare di comprendere meglio evoluzione ed involuzione del mondo del lavoro. Siamo sempre più soggetti al ricatto del licenziamento, della povertà, e questo, dice, ci rende meno liberi di protestare, di rivendicare e di far rispettare i diritti. Forse, sostiene Leggeri, è tempo di fermarsi un attimo per iniziare a ragionare su che sviluppo perseguire e che prezzo intendiamo pagare. Una intera generazione di giovani sicuramente è già stata sacrificata in nome di uno sviluppo economico molto discutibile. Vogliamo continuare a sacrificare altri giovani, altre famiglie? Domanda il capogruppo del Movimento 5 Stelle. Per Leggeri, una delle sfide della politica nazionale, ma anche di quella lucana, deve essere proprio quella di ripensare il lavoro, i rapporti di lavoro, gli equilibri e rilancia i cinque passi che il Movimento 5 Stelle ha individuato per tornare a crescere e bloccare la fuga dei giovani italiani. Lo Stato incubatore, cancellare Job Act, rafforzare i centri per l'impiego, riformare i sindacati, cambiare la legge Fornero. Misure e chiosa che mirano a costruire l'architettura di uno Stato intelligente, che si è in grado di adeguarsi ai grandi cambiamenti economici, aprendo nuove opportunità occupazionali.